Nel 1976, nella serie Pac, furono introdotti due nuovi personaggi, Big Jim Double Trouble, detto anche Due Volti, ed il suo nemico Zorak, lo scienziato pazzo. Tramite un meccanismo azionato dalla rotazione del braccio, il volto cambiava e diventava infuriato e verde, un po' come Hulk. In Italia fu commercializzato nel 1977, direttamente nella versione Mani Prensili, di cui possiamo ammirare la confezione originale. Le caratteristiche dell'action figure sono, strip di colore bianco, gambe agganciate a sfere, come tutti i personaggi creati prima del 1981. La tenuta originale si compone di, pantaloni neri, anfibi neri, mantello rosso con catena dorata. Grazie a tutti.